Vediamo ora l'ordine ionico. Nelle regioni orientali del mondo greco, nelle isole e sulle coste della Ionia, alla concezione matematica dell'architettura sacra si aggiunsero spunti fantasiosi tratti dagli elementi naturali, ad esempio palmette, girali d'acanto, volute ed anche animali. La decorazione predomina e il tempio non è più concepito come un solido, ma come un recinto monumentale dal canone proporzionale più agile, a cui non occorrono espedienti per correggere la percezione ottica. Il tempio poggia sul plinto, cioè un po' di elevato. Le colonne hanno una base di forma variabile, costituita da un elemento convesso chiamato toros, sovrapposto all'elemento concavo, detto trochilos, che può essere semplice o multiplo, e presenta una ricca modanatura. In confronto a quelle doriche, le colonne sono di proporzioni più snelle, presentano una rastrematura meno pronunciata e non hanno entasis. Le scanalature, dalle 24 alle 40, sono più fitte e a spigoli smussati. Il capitello è caratterizzato da volute laterali che si sviluppano a spirali e probabilmente sono la stilizzazione di volute vegetali. Fra queste volute c'è una fascia decorata, di solito ad ovuli o a perle, invece sopra c'è un sottile abaco. L'architrave è modanato a tre gradini e sopra, spesso, ma non sempre, c'è un freggio figurato continuo. Sopra e sotto il freggio ci sono due fasce di raccordo, sempre decorate. Il freggio ionico, molto efficace dal punto di vista narrativo, a partire dal V secolo a.C. si trova anche nel deambulatorio e all'interno della cella di alcuni templi dorici. Su questi due disegni non è presente la cornice a dentelli che si trova sopra il freggio e raccordava la trabreazione al timpano, privo di decorazione frontonale. La sima, invece, era sempre riccamente decorata da motivi vegetali. I templi ionici di maggiori dimensioni sono di solito dipteri, cioè hanno una doppia peristasi, cui si può aggiungere un'ulteriore fila di colonne sulla fronte anteriore e sono spesso privi di opistodomo. Il pronau è molto profondo ed ospita il prolungamento del colonnato interno. Una particolarità del tempio ionico è l'allargamento degli intercolumni al centro della facciata, in corrispondenza della cella, per centrarli rispetto alla navata e permettere la visione della statua di culto.